ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad una disquisizione caotica eccoci qua come ogni tanto accade con una disquisizione caotica un argomento che mi fa cuore che viene poi dipanato in una pillola di video pillola nel senso che sarà breve no concentrata semplicemente per esprimere un concetto e fare un minimo di chiarezza su quello che la gente pensa crede di cosa voglio parlare recentemente in questi giorni tisso ha lanciato due modelli veramente accattivanti veramente belli due orologi dei quali vi posso mostrare solamente la foto ecco intanto voglio dire che non è il mio uso e costume parlare di orologi mostrando una fotografia ben inteso ci sono dei canali youtube che vanno avanti solamente facendo questo e commentano per dei minuti interi le fotografie degli orologi senza averle in mano come sapete a me piace averle in mano toccarli mostrarvi le fotografie le varie angolazioni quindi è una cosa differente da commentare le fotografie ma in questo caso l'urgenza di fatti specie mi spinge a utilizzare queste due fotografie per mostrarvi gli orologi in questione qual è il punto il punto che questi due orologi che spero di avere presto sul canale montano due calibri particolari cioè uno monta l'eta 28 24 e l'altro monta l'eta 28 95 ossia i calibri di dieta senza la riserva di carica di 80 ore e con la racchetta di regolazione bene il tutto nasce dal fatto che io su un social social network ho visto una discussione ma un topic nel quale c'era una persona che presentava questi orologi come il nuovo corso di tissot che utilizzano i calibri eta con racchetta di regolazione e che quindi il powermatic verrà dismesso verrà abbandonato che è un nuovo cambio di tendenza che porterà tissot ad utilizzare solamente i calibri eta con racchetta di regolazione e 42 ore di riserva di carica questo è il concetto poi si è dipanata una serie la conversazione con dei commenti con persone che ci credevano ci credono con persone che si lamentano del fatto chi riparerà il mio powermatic 80 boom sparati di questo tipo altri che addirittura al senso contrario allora il mio orologio con il powermatic 80 prenderà valore ecco tutta una serie di fake news di veramente di situazioni imbarazzanti anche solo solamente a leggerle mi sono limitato a leggerle a non intervenire perché a scendere al livello degli idioti si perde perché loro lo sanno fare meglio e vincono e capito quindi ho ben pensato di fare questo video non tanto per difendere ti so che non ne ha bisogno ma per difendere la verità per difendere la corretta informazione per le fake news ecco quello che odio io è l'informazione non corretta e spesso accade a volte anche per partito preso qual è il punto il punto è che non è vero che che si sta dismettendo il powermatic per tornare a lieta con racchetta di regolazione non è vero non c'è nessuna fonte che lo dice e sarebbe anche assurdo pensarlo no è invece cosa buona e giusta andare sul sito ti so a vedere il catalogo il catalogo che attualmente ci propone no sono capaci tutti di farlo lì ci sono le notizie vere le notizie vere cosa scopriamo scopriamo che ti so da sempre utilizza i calibri eta con racchetta di regolazione da sempre non è questa una novità non è la prima volta non è che perché tu incappi in questi due orologi con il calibro eta 28 24 e 28 95 oddio miracolo cazzo ma prima dove eri non li hai visti tutti quelli di prima che ci avevano letta dentro e assieme ai powermatic che vanno di pari passo da sempre basta andare sul sito ti so e guardare ad esempio c'è questo qua che è il tiso automatics terzo eccolo qua questa qua la fotografia guardiamo che calibro monta eta 28 36 è al catalogo da un bel po eta 28 36 poi andiamo a vedere quest'altro modello ti so automatics terzo sempre questo qua eta 28 36 solamente che è acciaio ed oro ok qua ci siamo poi fammi vedere un altro modello che c'è ti so heritage petit second eccolo qua questo qua con i piccoli secondi a ore 6 vediamo può vedere che calibro monta movimento questo qua è a carica manuale l'eta 64 98 anche questo qua è un età hai visto poi andiamo un po a vedere questo modello qua ti so excellence automatic 18 carati gold guardiamo che calibro monta eta 28 92 pari pari l'eta 28 92 poi andiamo un po a vedere questo qua che orologio è ti so tradition automatic small second movimento è un età 28 25 è un derivato dell'eta 28 24 anche questo è già un po che che è all'estimo è questo qua è uguale e small second quindi movimento è tra 28 25 guardiamo questo se è interessante cosa ci cosa ci propone anche questo qua con età 28 92 e poi abbiamo il tiso heritage porto quello di forma eccolo qua questo incassa il calibro qua non è specificato ma incassa il calibro eta 7001 a carica manuale ora come abbiamo visto a catalogo tutti su al momento ora oggi in questo momento ci sono una marea di orologi con calibro eta senza spirale libera con la racchetta di regolazione con la riserva di carica limitata alle 40 ore o poco più quindi quei due orologi che sono usciti adesso non è una novità assoluta non è la prima volta non è il cambio di tendenza per cui ti so lascerà il power matico queste cose sono assurde e chi le afferma dovrebbe prendersi la responsabilità di fare affermazioni false e tendenziose se io fossi nell'azienda addirittura prenderei dei provvedimenti perché sta mettendo in giro delle fake news che non hanno senso ok ci siamo su questo punto allo stesso modo emilton da sempre a catalogo a orologi con calibro h della serie h cioè con 80 ore di riserva di carica e calibri eta eta 28 92 eta 28 36 basta andare a vedere e fare una verifica non l'ho fatta potrei dire anche una cavolata ma sono quasi sicuro che si trovano perché funziona così hanno disposizione tutti i calibri realizzati da eta ea seconda della situazione a seconda di come si svegliano la mattina a questo punto posso anche dire no e a noi non ci deve fregare niente mettono al calibro che interessa a loro in quel dato orologio tanto più che un calibro heritage con la racchetta di regolazione in vista magari al suo perché no poi insomma riassumendo tiso utilizza per la maggior parte tre calibri lo swiss matic che è veramente il più economico e non smontabile nel senso che è una sola vite per gli orologi di categoria più bassa il power matic 80 per la maggior parte degli orologi e i calibri classici eta per altri orologi che decide lei questo è quello che volevo dire per amor di verità per amor di corretta informazione cosa che magari altri non sanno fare o scusate lo sfogo ma tanto dovevo spero vi sia piaciuto il video anche se l'argomento è un po' di nicchia e non può interessare tutti ma un po' di chiarezza andava fatta vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordo a darvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love